Ora potresti dirmi che cosa provi, quali sono le tue paure? Non è vero, quindi non esser timida perché non faccio male con le parole a volte sì, ma quando solo tocchi me. Dimmi, qual è il tuo vero nome e tu? Perché? A volte mi sembri confusa. Grazie a tutti. Non c'è fondo dell'attività. Siedi su questa finestra e puoi parlare di quello che vuoi. Scusa, ci sarà un tra di noi, io lo spero, io lo spero.